Buona giornata a tutti. Il brano di Vangelo proposto per quest'oggi prosegue quello che abbiamo ascoltato ieri e come ieri è centrato sulla figura di Giovanni il Battista. Chi è Giovanni? Gesù rivolge direttamente alle folle la domanda. Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un nuovo vestito di abiti di lusso? No, siete andati a vedere un profeta. Anzi, più che un profeta. Chi è Giovanni il Battista? Giovanni il Battista è il profeta che invita con tutto se stesso il popolo alla conversione. E penso questo possa fare del bene al nostro cammino di avvento. L'appello di Giovanni alla conversione possiamo sentirlo rivolto a noi. Sentendolo rivolto a noi possiamo cambiare vita. Commenta Gesù a proposito di Giovanni e del suo battesimo. Qualcuno nel popolo lo ha ascoltato, persino i pubblicani, gli esattori della tasse lo hanno fatto. A differenza di fare i seditori della legge che invece non hanno ascoltato e non hanno accolto il battesimo di Giovanni. Tocca anche noi sentire rivolta la parola esigente di Giovanni alla nostra vita per convertirci, per cambiare. Ognuno può sentire la misericordia di Dio raggiungerlo in quell'aspetto che è più fragile, più delicato. Non restiamo insensibili come farisei e dottori della legge pensando che tutto e sempre vada bene e sia posto nostra vita. Accogliamo la parola sferzante di Giovanni per riprendere con fiducia quel cammino di conversione verso il Natale del Signore. Buona giornata a tutti!